carletto life tutti al teatro all'aperto vediamo il filmato stato via sì di una domanda sì ma seria mi raccomando come si è comportato ma malissimo è vero e quindi si è meritato una cosa e niente adesso poi non è più neanche il bello di roma ma è un bello di pizza fai vedere un po' su eminenza cardinal faustino de faustinis della diocesi della diocesi di roma un cavolo cucurano ma che è insomma è un nuovo film questo il nuovo film che racconta la vita del cardinal faustino faustini che era vicario di cucurano monte ma io comunque anche se lui era il bello di roma adesso è bello di pizza ecco vediamo a fare un controllo veloce del ciccilla eccolo è partito è partito cazzosclay vedi come picchia l'esplosinistro antipasto calcio questo è kung fu però non è box è certo è kung fu come fu 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 Grazie a tutti.